La Post Pay Evolution è la carta perfetta per chi esegue molte operazioni durante il mese. Questa carta infatti ha dei limiti di ricarica meno restrittivi di altre carte offerte da poste italiane e possiede anche un proprio IBAN, in modo che possiate fare operazioni di ogni genere. In questo video vi parleremo di costi di questa carta in vari scenari. Se mantenete l'euro come valuta per le transazioni verso conti correnti italiani e europei tramite bonifico bancario, allora saranno gratuiti. Tuttavia, per quel che riguarda i bonifici SEPA verso conti correnti che sono fuori dall'Unione Europea e con addebito su carta diretto, sarà richiesta una commissione. I costi sono variabili. 3,5€ per i bonifici che vengono effettuati tramite gli sportelli dell'ufficio postale. Se si cede la propria area riservata online sul sito ufficiale poste, allora il costo sarà di 1€ per ogni bonifico. Lo stesso vale per i fondi che vengono trasferiti da app Poste Mobile, app Poste Pay e app Banco Posta. Si possono trasferire soli e solamente importi che sono presenti sulla vostra Poste Pay Evolution. Ad esempio, se avete 500€ nella carta, non potrete fare trasferimenti di importi superiori. Quindi, prima di trasferire un importo, ma controllate l'importo presente nella vostra carta. Costo di una Poste Pay Evolution Potete acquisire una carta Poste Pay Evolution semplicemente presentandovi in uno sportello delle poste. Vi basterà riempire alcuni moduli ed effettuare dei brevi check di identità per poter ottenere la vostra carta Poste Pay Evolution. Una volta finita la procedura richiesta, la vostra carta Poste Pay Evolution sarà attiva insieme al deposito. Vi sarà un canone da pagare annualmente nel costo di 15€, cosa che non abbiamo con la Poste Pay Standard, ad esempio. La procedura di rinnovo sarà gratuita e avverrà ogni 5 anni, dopodiché dovrete rinnovare la carta per poter continuare a utilizzarla con tutti i suoi servizi, senza interruzioni. Nel caso volesse disattivare la vostra Poste Pay Evolution o terminare il contratto, non vi saranno costi aggiuntivi per tali operazioni. Nel caso di furdo o smarrimento, però, l'importo da pagare per ottenere una nuova carta Poste Pay Evolution sarà di 5€. Non c'è alcun costo di attivazione. La vostra prima ricarica della carta dovrà essere di 15€ o più, mentre il costo per la singola carta avrà un costo di 5€. Quanto costa la ricarica? Il costo per effettuare una ricarica è variabile, dato che avrete diverse opzioni disponibili per effettuare quest'ultima. Analizziamo alcune delle opzioni che avete a disposizione. Se utilizzate un ATM post a mat con carta Visa, Maestro, Mastercard, Visa Electron o V-Pay, il costo sarà di 1€ ad operazione. Se effettuate la ricarica in un ufficio postale composto o contanti, il costo sarà di 1€ ad operazione. Se eseguite la ricarica in contanti tramite tabaccherie ITB o ricevitorie CISAL o usando una carta di debito o credito, il costo sarà di 2€ ad operazione. Se eseguite la ricarica da un ATM post a mat con una carta che aderisce al circuito Bancomat, il costo sarà di 1€ ad operazione. Tuttavia, se utilizzate altri tipi di carta, il costo lievita a 3€. Se disponete di un credito bonifico da un conto corrente Banco Bosta, il costo sarà di 2€ ad operazione. In passato abbiamo anche ad occhiato delle promozioni, quindi tenetevi aggiornati per poter usufruirne nel caso che ce ne siano in un dato periodo. Costo del prelievo Cominciamo con il dire che potete tranquillamente fare prelievi degli ATM post a mat in modo gratuito, mentre vi verranno adebitate commissioni con questi altri metodi. I prelievi dagli sportelli automatici di istituti di credito e banche che usano il circuito Mastercard in zona euro e in Italia avranno un costo di 2€. I prelievi dai post negli uffici postali avranno un costo di 1€. I prelievi dagli ATM abilitati di banche e istituti di credito in aree fuori dell'euro o in valuta diversa dall'euro avranno un costo di 5€. Potete trovare l'elenco di informazioni ulteriori direttamente sul sito di poste italiane o chiedere informazioni tramite gli uffici postali. Concludiamo dicendo che la carta PostPay è un'ottima carta e può dare molte soddisfazioni, rendendoci la vita più facile sia quando effettuiamo operazione all'interno del nostro paese sia quando viaggiamo in zone europee. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte per pagate e le carte di credito disponibili in Italia nel momento. Ci vediamo al prossimo!